Nasce il progetto Sicuramente, con quale finalità? Il progetto Sicuramente che oggi presentiamo qui alla Camera di Commercio di Caserta è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'INAIL. Questo oggi è il primo seminario, seguiranno altri 4 seminari in tutte e 5 le province della Campania e l'obiettivo è quello di verificare l'applicazione del sistema sicurezza nelle imprese artigiane della Campania. Sicuramente noi andiamo attraverso una verifica che facciamo di intesa con l'INAIL sui diversi settori dell'artigianato, tentiamo di capire quali sono i problemi di applicazione della legge. Scontiamo qui in Campania sicuramente un ritardo, l'ente bilaterale è vicino alle imprese, ai lavoratori delle imprese con un sostegno non solo progettuale ma anche economico per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza. Il tema della sicurezza non è mai abbastanza e frequentemente comunicato alle imprese, le imprese artigiane e i loro dipendenti. Oggi l'ente bilaterale dell'artigianato campano insieme alle associazioni di categoria dell'artigianato ai sindacati e ai lavoratori è presente il progetto sicuramente finanziato in accordo con l'INAIL Campania. Qual è l'intento? È quello di informare e sensibilizzare maggiormente le imprese affinché la sicurezza sul lavoro, il decreto 8108, oggi siamo a 20 anni dalla nascita della 626, classica conosciuta come sicurezza, deve essere vista non come un adempimento formale, burocratico, un ulteriore balzello a cui rispondere, ma una presa di coscienza, una responsabilizzazione verso le imprese. A questo aggiungiamo che l'ente bilaterale darà sostegno economico a tutte le imprese, ai dipendenti delle imprese artigiane per frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza e per gli adeguamenti strutturali, uniti a quelli che già l'INAIL dà ogni anno. Grazie a tutti.